ciao ciò che vedete il sole il sole che tra l'avvento della gloria di dio o un enorme disco volante che a seconda del credo di ognuno mi trovo in una delle mie camminate pomeridiane nelle campagne del mio paese le camminate matutine non sono ancora nei miei pensieri o adesso non sono ancora nella mia voglia una strada di campagna del mio paese e i pressi del mio paese il paese che vedete qui è un paese vicino si chiama marrubbio il mio si chiama terralba intendo parlarvi un po del mio paese della mia zona con degli spezzoni di video questo è di presentazione diciamo così ok stupendo è